Allora oggi è in Santo Natale, il gran varietà religioso comincerà alle ore 9.30. Il cappellano Charlie vi farà sapere come il mondo libero riuscirà a far fuori il comunismo, con l'aiuto di Dio e di alcuni Marines. Dio ci si arrapa con i Marines, perché noi ammazziamo tutto quello che vediamo. Lui fa il suo mestiere, noi facciamo il nostro. E per dimostrargli il nostro apprezzamento, per averci dato tanto potere, noi gli riempiamo il cielo di anime sempre fresche. Dio è arrivato prima del corpo dei Marines. E quindi a Gesù voi potete offrire il cuore, ma il vostro culo appartiene alla nostra arma. Signorine, sono stato chiaro? Signor, sì, signore! Non ho sentito niente! Signor, sì, signore!